In un seminario presso la Sala Assemblea del Banco di Napoli, l'assessore allo sviluppo Marco Esposito ha presentato il bando di finanziamenti agevolati previsti nell'ambito della legge 266 del 97. L'iniziativa punta a favorire l'aggregazione tra imprese, consentendo la nascita di reti tra piccole realtà locali e con imprese provenienti da altre province, regioni o stati esteri. Napoli è il primo comune d'Italia a finanziare questa tipologia di aggregazione. Noi riteniamo che in questa fase di crisi sia importantissimo mettersi insieme, soprattutto per andare sui mercati esteri. Non è importante prendersi il contributo in sé, come si faceva in passato e poi magari fregarsene, ma è importante proprio fare questo salto culturale. Da questa sera alle 22 in Piazza dei Marti riprende il via il primo dei tre appuntamenti della campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol e il bere responsabile Drink No Drunk. L'iniziativa si svolgerà nel corso di tutto l'anno con momenti di informazione e comunicazione rivolti ai giovani e fa leva sullo sport per suggerire stili di vita alternativi più sani e salutari. Sabato 24 e domenica 25 marzo, a partire dalle 9.30, l'Orto Botanico di Napoli apre le sue porte al pubblico per dare il benvenuto alla primavera. Per l'occasione sono previste visite guidate a tema, concerti ed esercitazioni di semina e cura delle piante. Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito www.ortobotanico.unina.it Su proposta dell'assessore all'urbanistica Luigi De Falco, la Giunta Comunale approva un programma di visite guidate per il pubblico e di laboratori didattici per gli alunni delle scuole primarie e secondarie presso il cantiere del Teatro Antico di Neapolis al Centro Storico. Il progetto di scavo e valorizzazione del teatro costituisce infatti uno dei più rilevanti esempi di archeologia urbana della città. Proseguono in comune gli incontri sulla prevenzione medica con gli alunni delle scuole cittadine promossi dall'assessore Giuseppina Tommasielli. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo il chirurgo oncologico del Pascale Nicola Mozzillo ha spiegato agli studenti come riconoscere e combattere il melanoma e l'importanza della diagnosi precoce.